Ci siamo? Ginoble, Bragantini, Paola, provi a votare. Ginoble, Bragantini, Paola, provi a votare. Presidente, visto che il tema dell'anticorruzione è un tema sempre molto importante e presente all'interno del dibattito politico, l'emendamento molto semplicemente non ha altro scopo che quello di evitare che vengano inserite nell'ordinamento norme fuori dal codice e dispone di fatto che l'applicazione delle disposizioni che modificano l'obbligo della sede legale delle società delle SOA questo obbligo qui entra in vigore nel momento in cui le linee guida verranno definite